un cordiale saluto da federico grasso e ben ritrovati con il meteo di arpal quest'oggi lungo la costa cielo prevalentemente soleggiato nelle zone interne sui rilievi invece addensamenti cumuliformi dalla serata nella parte centrale della liguria assisteremo ad un aumento della nuvolosità bassa l'umidità si mantiene su valori medio alti i venti sono tra deboli e moderati dai quadranti orientali invece da sud sui rilievi il mare fino a mosso ovunque la sera molto mosso a largo permangono le condizioni di disagio fisiologico per caldo che dureranno anche nei prossimi giorni temperature massime odierne con valori racchiusi tra 25 e 30 gradi domani giovedì 27 agosto avremo nubi regolari lungo la costa con addensamenti sui settori centrali poco nuvoloso invece altrove dal pomeriggio assisteremo ad ampie schiarite costiere le attività cumuliformi sui rilievi nelle zone interne alla sera assisteremo un nuovo aumento della nuvolosità i venti saranno in prevalenza deboli da sud est con locali regimi di brezza lungo le coste sui rilievi di ponente deboli e variabili invece nell'interno di levante il mare al mattino sarà mosso su tutti i settori in calo a poco mosso a partire da ponente l'umidità ancora su valori medio alti le temperature minime nell'interno oscillano tra i 16 e 22 gradi lungo la costa tra 21 e 23 massime comprese tra 27 e 30 gradi venerdì 28 agosto avremo ancora nuvolosità tra regolare diffusa in aumento nel corso della giornata più compatta la sera sul centro ponente saranno possibili i primi fenomeni anche a carattere di rovescio alla sera sulla parte centrale della liguria i venti saranno tra deboli e moderati da sud di direzione variabile sui rilievi al mattino e con locali regimi di brezza lungo la costa il mare mosso a levante poco localmente mosso a ponente alla sera l'umidità sempre medio alta temperature minime interne comprese tra 16 e 23 gradi in costa tra 21 e 23 massime lieve calo con valori racchiusi tra 24 e 29 gradi ricordandovi che il dettaglio sul metodo liguria consultabile sul sito www.arpa punto liguria.it sulla pagina facebook sul profilo instagram e sugli altri social dell'agenzia io vi auguro una buona giornata a risentirci